Sì, brava, la ditta è una grossa. Sì, è tutto. Sono capri o pecora? Eh, lo faccio io. No, sulla ditta è nata che non c'è. Sì, la ditta è morta. Guarda, la ditta è morta. La ditta è morta. La ditta è morta. La ditta è morta. Ancora un altro c'è bisogno. Adesso sto facendo un video. Sì, esatto. Un video? Un video. Domani siete femmoni. Su internet. Su YouTube. Esatto. Su YouTube. No, 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 non c'è vero. Con l'Agnelli non partite che adesso andiamo giù tutti quanti insieme. La camicia la mettete. Forza. Oh, stavo, eh. Stavo. Inaccarriamo la tiglia. Oh, no, 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 no. Grazie. Grazie.